Buongiorno a tutti, oggi abbiamo il piacere di intervistare Valentina Gazzaniga, professoressa di storia della medicina e bioetica alla Sapienza Università di Roma. Tra le sue molte pubblicazioni la professoressa Gazzaniga è autrice del volume dal titolo La medicina antica, Carocci, editore 2014. Buongiorno professoressa. Buongiorno a tutti. Allora, come prima domanda le leggo un titolo all'interno del primo capitolo del suo libro, Storia della medicina antica, storia di cosa? È una bella domanda, nel senso che noi siamo abituati a pensare alla medicina secondo i dettami della nostra medicina, che è la medicina sperimentale, cioè una medicina che nasce nella seconda metà del XIX secolo ed è una medicina che si fonda su un metodo condiviso, su una serie di procedimenti logici che sono riconosciuti e che ancora noi oggi applichiamo. Quando si parla invece di medicina antica si deve prendere in considerazione qualche cosa che è molte medicine, molti approcci di carattere differenti, molte teorie differenti e conseguentemente anche molte pratiche diverse, non solo ma anche molti profili professionali diversi, diciamo molte figure di curanti. Quindi ci troviamo di fronte a un mondo che è estremamente complesso e in questo mondo estremamente complesso noi possiamo scegliere quale strada intraprendere per provare a dipanarne i nodi. Possiamo pensare a una medicina che sia ricostruibile attraverso gli strumenti di una storia delle idee, penso per esempio all'evoluzione del concetto di malattia. Se noi ci soffermiamo a parlare di concetto ontologico, di concetto razionale, di concetto funzionale o di una prima forma di concetto anatomico di malattia, noi abbiamo degli snodi che sono totalmente diversi e che ci conducono in uno dei tracciati che possiamo scegliere di seguire. Nello stesso tempo storia della medicina antica significa anche in senso più esteso una storia di carattere culturale. Penso per esempio allo strutturarsi del concetto del corpo femminile, il modo in cui le fonti scientifiche, le fonti mediche insieme alle fonti filosofiche costruiscono l'immagine di un'imperfezione corporea della quale noi oggi ancora paghiamo degli scotti importanti. Allora da quel punto di vista noi possiamo approcciare la storia della medicina come una guida per capire alcuni aspetti dell'oggi che altrimenti ci sfuggono, che altrimenti non comprendiamo. È storia culturale anche là dove noi andiamo a cercare l'intreccio tra la dimensione mitica e la dimensione razionale. Noi siamo abituati a pensare sempre in modo piuttosto binario, da un lato il mito, dall'altro la razionalità. Nel mondo antico invece questi sono approcci che sono estremamente coesi. Poi possiamo pensare a una storia materiale, quindi alla storia delle cure, alla storia degli strumenti, alla storia delle sostanze, delle piante medicinali che vengono utilizzate a fini di terapia e quindi conseguentemente alla storia dei commerci, alla storia delle vie attraverso le quali quelle sostanze si sono spostate da una parte all'altra del mondo antico e spostandosi hanno veicolato teorie, hanno veicolato idee. Possiamo pensare alla storia della medicina antica anche da un punto di vista che è un po' meno praticabile da uno storico puro che è la prospettiva della storia delle malattie o degli stili di vita che è un approccio estremamente interessante, l'approccio perseguito da quel ramo della storia della medicina che si chiama paleopatologia, cioè quella branca che studia per l'appunto la storia delle malattie utilizzando come testo di riferimento non il testo scritto, non il testo epigrafico, non il testo archeologico che sono i materiali con i quali lavorano gli storici tradizionali ma viceversa utilizzando dei tessuti umani, quindi nel 90% dei casi ossa che si sono conservate, in qualche caso più fortunato tessuti mummificati che possono essere analizzati con gli occhi della medicina contemporanea, con gli strumenti diagnostici della medicina contemporanea e ci dicono moltissime cose che i testi antichi dicono a mezza voce, non dicono del tutto, non dicono chiaramente o illuminano solo in modo molto parziale. Quindi credo che già queste pochissime tracce possano dare a un lettore l'idea di quanto sia complesso muoversi all'interno di una disciplina che a noi immediatamente fa pensare a qualche cosa ma che quando proiettiamo nel passato delle culture del bacino del Mediterraneo diventa qualche cosa di totalmente differente, molto lontana da quella che è per noi oggi. Ancora scettando un passo del suo libro le chiedo come e perché si passò dal concetto ontologico di malattia intesa come ira degli dèi a quello razionale che vede svanire l'azione del Dio? Per concetto ontologico di malattia si intende una visione della malattia che è assolutamente antitetica alla nostra. Noi pensiamo che la malattia sia in un qualche modo un'alterazione di uno stato fisiologico, sia una specie di seconda faccia di una medaglia, da un lato c'è la salute, dall'altra l'interruzione dello stato di salute codifica per l'innesco dei processi di malattia. Concetto ontologico nelle culture antiche significa che invece la malattia è qualche cosa che ha una sua esistenza al di fuori del corpo dell'uomo, può essere un oggetto inanimato, può essere la freccia che colpisce l'accampamento greco davanti alla città di Ilio all'inizio dell'Iliade, può essere un sasso, può essere un animale che entra all'interno del corpo o uno spirito cattivo, animato da cattive intenzioni che entra, come diceva molto correttamente lei, all'interno del corpo perché un Dio decide di utilizzare quello strumento per punire gli uomini di un comportamento scorretto. Questa è un'idea diciamo di lunga durata, è un'idea appunto attestata dalle fonti perlomeno dal XIII secolo a.C. fino a epoche molto avanzate, in realtà fino alla tarda antichità, su questa idea a un certo momento o in realtà diciamo non in un certo momento ma attraverso una serie di passaggi che vedono per esempio come antecedente la filosofia presocratica, quindi l'approccio razionalizzante diciamo al tentativo di spiegare la physis, al tentativo di spiegare la natura che è stata propria dei filosofi della Ionia, Talete, Anassimene, Anassimandro, Empedocle, Alcmeone, insomma abbiamo una serie di autori che sono molto ben noti e che in qualche modo costituiscono un antecedente per quello che è poi invece il momento nodale del passaggio, cioè quello che coincide con la nascita della medicina ippocratica. Ippocrate è nelle fonti mediche antiche presentato come il padre fondatore della medicina e questo grazie diciamo indipendentemente, noi sappiamo che Ippocrate è un personaggio storico certamente esistito, il principale testimone che noi abbiamo sulla vita di Ippocrate è Platone che dice di essere stato un suo allievo, quindi abbiamo una ragionevole certezza della sua esistenza storica. A Ippocrate sono attribuiti una grande quantità di testi, circa una sessantina di testi che per un autore antico sono veramente molti, che hanno come caratteristica comune il fatto di fondarsi sul quello che noi chiamiamo concetto razionale di malattia, cioè l'idea che la malattia sia semplice alterazione di uno stato di natura, il corpo dell'uomo composto da elementi fisici, cioè conoscibili e percepibili attraverso i cinque sensi, che risponde a delle leggi che sono le leggi del mondo naturale, del mondo esterno. Questo approccio è un approccio rivoluzionario, radicalmente rivoluzionario, attribuiamolo a Ippocrate, anche se gli scritti ippocratici, diciamo, esiste una questione ippocratica come esiste una questione omerica, diciamo, noi accogliamo il nome di Ippocrate per questi scritti proprio perché tutti questi scritti condividono, diciamo, una teoria che con varie sfumature può essere intesa come teoria comune, cioè la razionalità che serve a spiegare il fenomeno malattia. Noi ci ammaliamo non perché un Dio ci punisce, ma ci ammaliamo perché un elemento del mondo esterno, una qualità del mondo esterno, il caldo, il freddo, il secco e l'umido, che si rispecchia nelle componenti del corpo dell'uomo, che nella medicina ipocratica sono quattro, sangue, flegma, bile gialla e bile nera, che a loro volta coincidono, rispondono, diciamo, alla questione delle qualità del mondo esterno, caldo, freddo, secco e umido, una di queste qualità entra all'interno del corpo dell'uomo, diventa eccessiva, diventa eccedente, il corpo dell'uomo si ammala. È un procedimento nel quale l'azione del Dio non ha più nessun significato e costituisce, come dicevo poco fa, una vera rivoluzione, cioè una spinta verso quella razionalizzazione dei fenomeni che è una caratteristica di tutta la cultura greca a cavallo tra quinto e quarto secolo avanti. Un altro nome importante dell'antichità insieme ad Ippocrate, di cui lei ha già parlato, è Galeno. Le chiedo qual è la sua importanza all'interno della storia della medicina occidentale? Le fonti tardoantiche, le fonti medievali riconoscono Galeno come l'altro padre fondatore della medicina antica assieme a Ippocrate. C'è un celebre affresco nella cattedrale di Anagni che in una lunetta rappresenta in una conversazione immaginata da un lato Ippocrate e dall'altro Galeno. Molti secoli di vita distanziano questi due autori. Galeno è un greco che vive e lavora a Roma in epoca imperiale, segnatamente durante il regno di Marco Aurelio e in parte il suo figlio Comodo. È da un lato il riscrittore, commentatore, l'esegeta più accurato che noi abbiamo della medicina ipocratica. Dall'altro è della quale accetta gli assunti, quindi il concetto razionale di malattia, l'idea che il corpo sia composto da umori e da qualità e che la salute sia l'equilibrio di questi umori e la malattia l'improvvisa rottura dell'equilibrio e quindi per esempio uno o più di un umore che diventa sovrabbondante. A questa accettazione diciamo di teoria ipocratica Galeno sovrappone però un approccio metodologico assolutamente innovatore che è quello che si fonda sullo studio anatomico. Durante il suo periodo di apprendistato nella città di Alessandria d'Egitto Galeno ha modo e ce lo racconta di vedere l'importanza che lo studio anatomico aveva rivestito nel terzo secolo avanti in quella città ad opera di medici, dei medici alessandrini, di rofilo e di resistrato e di aver compreso come quell'approccio anatomico costituisce in realtà la base di tutto quello che è lo sviluppo del pensiero medico successivo. Galeno è l'autore che stabilisce diciamo la successione logica della medicina così come noi oggi la conosciamo. Senza anatomia non c'è fisiologia, senza fisiologia non c'è patologia, cioè comprensione del perché il corpo smette di funzionare, senza patologia non ci può essere intervento terapeutico. Questa comprensione dell'utilità, dell'importanza dello studio anatomico è resa concreta da Galeno attraverso quella che si chiama anatomia proiettiva, cioè un'anatomia condotta in larghissima parte su animali e non sull'uomo, questo perché insomma esistono sia nella cultura greca che anche nella cultura romana tutta una serie di divieti all'alterazione del corpo del morto, divieti che però Galeno supera dissezionando delle scimmie o dissezionando tutta una serie di animali che lui ritiene essere simili o poter ben testimoniare la costituzione del corpo umano, dagli ungulati, dalle capre, dalle pecore, ad animali di stazza maggiore, addirittura l'elefante. Galeno ha dissezionato qualsiasi cosa e attraverso l'osservazione degli animali per via proiettiva costruisce quella che di fatto è la prima forma di anatomia scientifica che noi conosciamo nel mondo antico. Un'anatomia che è quindi un enorme passo in avanti che per alcuni aspetti sarà anche poi in realtà il macigno, il macigno autoritario su cui la medicina dei secoli successivi si ferma, cioè le cose giuste di Galeno passano pressoché inalterate nel medioevo sino al primo evo moderno ma allo stesso modo passano le cose sbagliate, le cose che sono osservate sugli animali ma nell'uomo non esistono o che in un qualche caso Galeno ipotizza ma non sono frutto della sua osservazione che di fatto costituiscono poi nei secoli successivi una sorta di ostacolo epistemologico allo sviluppo della medicina che sarà superato solamente nel rinascimento diciamo con gli studi rinascimentali e poi definitivamente con la rivoluzione scientifica seicentesca. Con la pandemia da Covid-19 abbiamo purtroppo imparato a familiarizzare con il concetto di contagio. Cosa ci dicono al riguardo appunto sul concetto di contagio le fonti non mediche antiche? Il concetto di contagio è un concetto molto interessante per la medicina antica nel senso che è un concetto in cui si scontrano due punti di vista che sono totalmente diversi mentre la medicina ipocratica e galenica non possiede un'idea di contagio ritiene che le malattie si trasmettano per inalazione di di aria miasmatica cioè di aria che contiene dei principi che sono difettosi troppo caldi troppo umidi e che quindi sono in grado di alterare quell'equilibrio del corpo a cui accennavo che costituisce la salute e quindi la malattia non può essere trasmessa no non c'è idea di trasmissione di malattia da un individuo ad un altro individuo né tantomeno da un animale ad un individuo. Questa sorta di cecità nei confronti del contagio è nel mondo antico però tipica solo della medicina perché invece fonti di carattere diverso che vanno dalle fonti non so penso alla storia dell'architettura penso al trattato di architettura di Marco Vitruvio Pollone quindi un autore del primo secolo avanti Cristo che parla chiaramente del fatto che le città vadano costruite in luoghi alti liberi da piccoli animali infestis aculeis armata che hanno degli aculei che trasmettono malattia quindi un riferimento molto chiaro evidentemente alle zanzare e alla malaria che le zanzare trasmettono no si sa che la malaria è stata una delle grandi endemie del mondo antico una malattia del bacino del Mediterraneo soprattutto perennemente presente del quale della quale gli architetti si accorgono appunto consigliando di erigere le città in luoghi alti quindi in luoghi lontani dall'acqua paludosa e in un qualche modo più sicuri. Allo stesso modo se ne accorgono i veterinari Vergezio un autore della fine del quarto primi anni del quinto secolo dopo Cristo dice che è opportuno tenere nelle stalle separati gli animali malati dagli animali sani perché gli animali malati possono trasmettere la malattia agli animali sani. Allo stesso modo i filosofi Seneca utilizzando il modello di malattia per dipingere per tratteggiare la malattia morale dice raccomanda ai genitori di non consentire ai figli di stare con compagni che abbiano un vizio dell'anima perché il vizio dell'anima è contagioso come le malattie del corpo quindi c'è una situazione diffusa diffusissima anche molto autorevole no? Si pensi non so alla descrizione della peste di Atene da parte di un grandissimo storico contemporaneo di ippocrate come Tucidide nel quale Tucidide dice chiaramente la malattia si trasmette si trasmette dai bambini ammalati alle madri che li accudiscono si trasmette da individuo a individuo all'assoluta invece cecità o rifiuto della visione della contagiosità della malattia che caratterizza la medicina di stampo antico. La medicina di stampo antico significa una medicina che proietta se stessa fino al 1500. La parola contagium è una delle poche parole latine della medicina cioè una parola che viene coniata nel 1500 da un autore che si chiama Girolamo Fracastoro che per primo prova a spiegare un modello di trasmissione della malattia che si allontani da quello ippocratico galenico e che invece preveda la possibilità che la malattia si trasmetta per l'appunto da un corpo ammalato a un corpo sano. In ultimo una domanda solo apparentemente banale perché leggere i classici oggi professoressa? Non è affatto una domanda banale è una domanda molto importante allora io direi prima vi do una mia risposta in molti aspetti dell'oggi e certamente la medicina è uno di questi uno dei più significativi più importanti noi maneggiamo senza saperlo e continuiamo ad utilizzare dei concetti che sono concetti antichi pensiamo per esempio a quando noi usiamo il concetto ontologico della malattia no quando diciamo ma perché la malattia ha colpito quella tal persona che è così per bene così buona questa in realtà è una frase che traduce il concetto ontologico di malattia ma anche quando noi diciamo che siamo raffreddati o che ci sentiamo malinconici o pensiamo come quando è accaduto per il covid quando noi cerchiamo dei capri espiatori per allontanare da noi una malattia stiamo utilizzando tutta una serie di concetti che arrivano diretti da a noi senza che noi ne siamo perfettamente consapevoli dal mondo antico possiamo pensare al modo in cui è facile spiegare cosa significa patriarcato e creazione del mito negativo dell'inferiorità femminile e quindi gettar luce su aspetti oscuri della contemporaneità come per esempio la violenza sulle donne usando la costruzione medica e filosofica del corpo femminile da ipocrata ad aristotele fino a galeno e diciamo questa è la mia risposta poi ce n'è un'altra sicuramente più autorevole più dotta che mi piace sempre molto ricordare perché insomma è stato un maestro ideale di molti di noi cioè quello che diceva Umberto Eco ci sono tante ragioni la prima è perché i classici hanno resistito ai secoli e resistere ai secoli significa resistere alle trascrizioni e quindi questo indica un valore riconosciuto diacronicamente da cultura in mutazione da culture che cambiano no e questo significa secondo quello che dice Eco che questi autori veicolano un valore che noi ancora oggi più o meno consapevolmente riconosciamo come vitale come capace di dirci qualche cosa e poi perché c'è molto di vivo diciamo in culture che sono morte da secoli io questo credo che si capisca più emotivamente no lo capisce benissimo chiunque abbia camminato io sono romana abito a Roma abbia camminato in una serata primaverile per esempio al tramonto ai fori romani o qualcuno a cui sia capitato di essere un attimo solo in condizione di solitudine di riflessione per esempio all'interno di uno dei locali della città distrutta di Pompei davanti magari a un affresco sono paesaggi sono e i passi sono voci in un qualche modo che ci arrivano da passato dal passato ecco Umberto Eco diceva che sono voci di persone che vale la pena conoscere e con cui vale la pena ancora oggi di fare una chiacchierata perché poi diventano degli amici. Ringraziamo Valentina Gazzaniga per aver rilasciato questa sua interessante intervista a toscanalibri.it grazie mille professoressa grazie a voi ed invitiamo tutti i nostri lettori a continuare a seguirci sul web. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci.